Il calcio mi piace assai, mi piace allo stadio, alla playstation, alla tv, ma soprattutto mi piace giocarlo. Come adesso che devo girare sto rigore. Non ho paura, no. È bella l'emozione che hai prima di battere un calcio di rigore. Non so che forse non sono proprio i migliori giocatori della squadra e che me lo fanno tirare a me perché mi vogliono bene. E allora io mi faccio trovare pronto. Agostino Annunziata, coordinatore provinciale Teleton, Avellino Benevento. Parliamo degli importanti passi avanti fatti comunque nel mondo della solidarietà e della ricerca soprattutto. Partiamo anzitutto dal TGM di Pozzuoli. C'è stato appunto questo incontro, questo incontro nel Tempio della ricerca così definito, dove appunto avete consegnato 130.000 euro giusto per la ricerca. Sì, diciamo il frutto della raccolta dell'ultimo anno. Abbiamo l'abitudine di celebrare questo momento per dare merito ai volontari che si prodigano sul territorio durante l'intero anno. E dare anche per trasparenza naturalmente. E poi anche un momento simbolico quello di ripartiamo ecco in quel momento anche per la prossima campagna Teleton che ci vedrà coinvolti durante il mese di dicembre in modo particolare. E la cosa importante è che in quell'occasione i volontari che ruotano di anno in anno hanno la possibilità di vedere e toccare con mano il frutto del loro lavoro di volontari. Quindi la raccolta fondi dove va, quali strumentazioni nuove sono state comprate al TGM, che è l'istituto Teleton di Genetica e Medicina. Chi ci lavora in quell'istituto? Quindi parlano, hanno la possibilità di parlare, fare domande ai ricercatori, ascoltare dalla loro voce aggiornamenti sullo studio di qualche malattia in modo particolare. E quindi anche questa curiosità aumenta la possibilità del volontario di diventare, cosa dico sempre, il vero ambasciatore di Teleton, che sicuramente non sono io. E quindi ciascuno di loro, fortemente motivato, informato, correttamente informato, è in grado anche di riportare sul proprio territorio l'informazione che può servire ad altri volontari o ad altri donatori di fare qualcosa in più che possa aiutare a progredire la ricerca Teleton. E' iniziato dieci anni fa il suo percorso al fianco di Teleton. Come è nato questo amore per il volontariato e soprattutto i passi in avanti fatti dalla ricerca in questi anni, grazie anche al sostegno dei volontari? Sì, diciamo che è stata la prima esperienza iniziata quasi, non dico per gioco, però c'era voglia di aiutare naturalmente un ente benefico. La scelta ricadde in un'occasione, insomma, che abbiamo realizzato nel paese dove abito una piccola raccolta fondi. Ricadde su Teleton perché nell'immaginario collettivo Teleton per tutti gli italiani ormai da oltre 28 anni rappresenta il massimo della serietà e della trasparenza. Quindi facevamo una raccolta fondi, l'abbiamo versata a Teleton e in quel momento in realtà si è acceso un po' una lampadina. Io personalmente ho voluto capire meglio come Teleton impiega questi fondi, con quali criteri vengono assegnati a dei ricercatori piuttosto che ad altri. E soprattutto ho cercato di capire meglio cosa fossero le malattie genetiche rare, che è il problema principale proprio quello di dare questa informazione, far capire che purtroppo sono rare ma esistono e la cosa che più spaventa è il numero di portatori sani. Perché ovviamente la malattia rara in Europa è definita tale quando ha un'incidenza di meno di 5 casi su 10.000 nati vivi. Però in realtà nella maggior parte dei casi la frequenza è molto diversa, molto più rara. La malattia parliamo di uno su un milione e anche più. E la difficoltà maggiore è quella di reperire fondi per fare ricerca su malattie così rare. Però purtroppo sono malattie che hanno effetti devastanti sulla vita, dalle persone che ne sono colpite e alcune di queste sono letali. Ci sono i numeri di Teleton da dare. Parliamo di malattie genetiche rare, è già difficile fare una stima precisa. Sicuramente parliamo di oltre 6.000 malattie genetiche rare. Meno di 1.000 hanno ricevuto uno studio scientifico minimo, quindi a livello mondiale. E di queste circa 500 sono stati finanziati da Teleton. Non esiste però un vero e proprio, scusami, registro per quanto riguarda le malattie genetiche rare. Infatti prima le ho chiesto se in Irpinia, focalizzando l'attenzione proprio sull'Irpinia, ci fossero dei dati precisi, ma purtroppo non ci sono. Purtroppo no, non ci sono e sono addirittura poco noti anche al pubblico. In realtà la prima difficoltà è quella di fare una diagnosi. È proprio la prima difficoltà dei ricercatori. A tal proposito Teleton ha avviato proprio nell'ultimo triennio un progetto specifico che mira a dare un nome alle malattie genetiche rare. Quindi la prima difficoltà è la diagnosi. Oltre il 30% dei bambini affetti da malattie rare non riceveranno mai una diagnosi. Se purtroppo per quelle letali moriranno senza saperlo. Quindi Teleton, diciamo che è molto sensibile in questo, ha destinato 2 milioni di euro per questo triennio 2016-2018 per questo progetto specifico, grazie a una strumentazione particolare che abbiamo al TG, ma quindi all'Istituto Teleton in Genetica e Medicina, che è un sequenziatore di ultima generazione. Permette di leggere in appena 24 ore il DNA di un bambino, in questo caso affetto da malattie rara, fare la stessa cosa col DNA dei genitori e dei fratellini sani. E quindi dall'incrocio di questi dati è possibile oggi, almeno nel 50% dei casi, fino ad oggi questa è stata la statistica del report dell'ultimo anno, il 50% dei casi ha ricevuto una risposta. Questo permette ai bambini affetti da questa malattia di confrontarsi anche con gli altri pochi casi al mondo, perché a volte parliamo di 7, 8, 10 casi al mondo di malattie rare. Capire l'evoluzione di quella malattia, quindi cosa ci si aspetta, come evolve e quale possono essere i rischi maggiori, e permette di confrontarsi anche con altre istituzioni che a livello mondiale seguono le malattie rare, così come in Italia lo fa Teleton. Al di là di questo abbiamo sicuramente una delle particolarità di questa malattia è che ad oggi ci sono pochi farmaci, poche terapie. Una sola è quella che ha ricevuto una terapia genica che ha superato la fase sperimentale già qualche anno fa. Nel 2016 è stata riconosciuta dall'EMA, all'Agenzia Europea per il Farmaco, c'è stato il riconoscimento di farmaco orfano, si chiama Strimvellis, la malattia che combatte l'Adaskid, che si verifica nei bambini chiamati bambini bulla, perché purtroppo a causa di un difetto genetico non hanno la produzione di un enzima che si chiama adenosina deaminasi, che è fondamentale per la produzione dei leucociti. Quindi in pratica questi bimbi che ne sono affetti hanno un sistema immunitario carente, e quindi possono morire anche per una banale infezione, per un banale raffreddore. Oggi quella malattia, che sembrava invincibile qualche anno fa, si sconfigge. Quindi chiunque al mondo nasca con quella malattia può venire in Italia, all'istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica di Milano. In questo caso è l'unico centro al mondo in grado di praticare questa terapia e da questa malattia si guarisce definitivamente. Quindi non produciamo un farmaco da vendere per tutta la vita, ecco perché non c'è l'interesse da parte dell'industria farmaceutica in questo settore. Ci sentiamo un po' come dire, artefici anche noi di questo successo, però hanno superato già con successo anche la fase sperimentale di altre malattie genetiche rare, come la leucodistrofia metacromatica, che è una malattia neurodegenerativa letale, i bambini non arrivano ai tre anni di vita, oggi si guarisce anche da questa. La sindrome di Biscotto-Holtrich, ci sono anche la beta-talassemia, l'emofilia che sono in corso di sperimentazione, sono circa una ventina in questo momento. Poco tempo fa, poche settimane fa, ha ricevuto anche la terapia un nostro amico, un ragazzino di Pozzuoli, che è affetto dalla mucopolisaccaridosi di tipo 6, un'altra malattia su cui il TGEM, in questo caso, quindi l'istituto proprio di Pozzuoli, ha fatto la sperimentazione per la prima volta al mondo. E Raffaele Licusato, questo ragazzo simpaticissimo di Pozzuoli, ha ricevuto la terapia. Al primo controllo, sembra che i risultati danno buone speranze, chiaramente le ulteriori verifiche ci saranno nei prossimi mesi, quindi quando sarà, ci auguriamo possibile dire al mondo che anche questa malattia è sconfitta grazie a Teleton e grazie alle donazioni degli italiani, saremo felici di farlo. Tra le tante storie che comunque si intrecciano, a Teleton e comunque alla ricerca, c'è qualche storia di qualche bambino, di qualche famiglia che ne è rimasto particolarmente impressa. Sicuramente sono tante, sono tutte sicuramente. Sicuramente in Irpina ne abbiamo tanti, cito quelli che posso citare per il proprio fatto di Braia, per esempio abbiamo Antonio del Gaizo, di Agliello del Sabato, che è un ragazzo affetto dall'atrofia muscolare spinale di tipo 2, è stato ospite in Rai già alcune volte, Rai Cinema ha prodotto anche un cortometraggio molto bello e in questo momento Antonio sta somministrando una terapia, che è un farmaco in questo caso, che da alcuni mesi è somministrato in un centro specializzato qui in Italia. Antonio, come tanti bambini affetti da atrofia muscolare spinale di tutte le forme, stanno ricevendo questo farmaco. I dati, chiaramente, è ancora presto a dare dei risultati, però sono promettenti, quindi ci auguriamo che Antonio possa beneficiare, visto che lo conosciamo anche personalmente, come tanti altri bambini, possa beneficiare effettivamente di questo farmaco, speriamo della guarigione, però che possa già migliorare o arrestare la progressione della malattia in attesa di una cura più efficace, è quello che ci auguriamo tutti. Poi abbiamo due gemellini di Serino, che sono Francesco e Costantino, sono stati i RAI lo scorso anno, ritorneranno anche quest'anno, affetti da fibrosi cistica, che è la malattia genetica rara più diffusa in Europa, i portatori sani sono 1 su 25, quindi questo ci deve far riflettere, insomma, non è un problema che riguarda solo gli altri, quindi dobbiamo essere tutti noi, e quello che dico sempre, non siamo altruisti, soprattutto noi volontari. Io mi sento egoista, in realtà sto investendo nel futuro dei miei nipoti, mi auguro dei miei figli, dei miei nipoti, perché di malattia rara purtroppo ci si può ammalare a qualsiasi età e nessuno si deve sentire escluso, e quindi oggi investire un po' del proprio tempo come volontario, un po' delle proprie disponibilità economiche per le donazioni, serve semplicemente ad assicurarci un futuro libero da malattie, e quella malattia che dicevo prima, la Daskid, ho conosciuto proprio all'inizio della mia esperienza in Teleton, una famiglia erpina di Rocca Bascerana, il bambino affetto da Daskid, è stato il primo caso al mondo, insieme a un ragazzo, a un bambino canadese, ad essere trattato con l'unica possibilità che c'era prima, 20 anni fa parliamo, che era il trapianto di midollo, e sembrava fantascienza immaginare di vedere un giorno una terapia risolutiva per questa malattia, e poi ci siamo arrivati. La campagna Teleton non si ferma mai, proseguirà anche a dicembre, ci sono degli appuntamenti importanti, che vuole appunto dirci? Allora, la particolarità delle nostre province, di Avellino e Benevento, è che non abbiamo grandi eventi, soprattutto eventi di quelli che si notano spesso in televisione, è un lavoro capillare fatto sul territorio, che fonda la propria forza proprio sulla conoscenza del volontario nella propria comunità di appartenenza. Questo ha permesso di raccogliere fondi, indipendentemente dalla piazza o dal tempo atmosferico che abbiamo nel giorno ufficiale della raccolta, ma c'è una sorta veramente di raccolta porta a porta, e questo ha permesso negli anni di avere una crescita della raccolta fondi, che ci dà grande soddisfazione, grande merito. Siamo la seconda provincia in Italia, intendo Avellino e Benevento insieme, seconda provincia in Italia per raccolta fondi, prima di noi c'è la provincia di Roma, quindi vuol dire ci va bene così, la prima in Campania, nelle prime eventi, quindi rispetto a Napoli, Caserta e Salerno, questo vuol dire che abbiamo fatto un lavoro adattato a quella che è l'esigenza del territorio, chiaramente è impensabile gestire una cosa del genere in grandi città, ce la possiamo permettere perché le nostre piccole comunità ci permettono di comunicare in maniera più efficace, e la cosa importante è che il volontario che dà la disponibilità da Teleton addirittura fa da garante. La prossima campagna Teleton è quella di dicembre, dal 15 al 22 ci sarà la nota trasmissione sulle reti Rai, sulle piazze ci saranno i volontari, chiaramente quelli che hanno già aderito, insomma ormai aderiscono da tantissimi anni, lo faranno anche quest'anno, cerchiamo sempre nuovi volontari, quindi chiunque voglia aiutare dalla provincia di Avellino a Benevento può ricercare sul sito di Teleton il mio contatto, contattare direttamente l'email volontari chioccio.teleton.it, dare la propria disponibilità, poi saranno ricontattati e messi in condizione di fare una raccolta fondi per finanziare questa ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!